Per un autore che utilizza Creative Commons ci possono essere vari vantaggi legati più che altro alla maggiore visibilità che lui può avere come autore, come artista e al fatto che la sua opera può circolare più liberamente, perché? Perché è svincolata dai classici legami del diritto d'autore del copyright tradizionale e quindi può essere più liberamente distribuita, più liberamente citata e più liberamente riutilizzata anche per fare opere derivate, pensate ad esempio al testo di una poesia che può diventare rilasciata sotto licenza Creative Commons anche un brano musicale, pensate a questo brano musicale che poi a sua volta può diventare un video musicale utilizzato da un filmmaker, quindi le licenze Creative Commons innescono un meccanismo virtuoso di riutilizzi e diffusione dell'opera e l'artista può aumentare la sua visibilità e quindi ad esempio rimunerarsi grazie al fatto che viene più volte chiamato a suonare, più volte chiamato a tenere conferenze, a tenere lezioni, a tenere interventi di vario tipo. Si sposta il modello di business dalla vendita delle copie, che ormai appartiene ad un mondo pre-digitale, alla vendita di servizi connessi alla tua creatività, alla tua competenza.